Un mare d'antico amore che sempre ha turbato il mondo si insinua come lava che scioglie i ghiacciai nella mia mente rugginosa e come un vulcano esplodono i miei sensi di pace. Il premio internazionale Città di Arce è stato inaugurato da Massimo De Santis recitando una delle sue poesie. Un concorso aperto a tutti i poeti del mondo organizzato e prodotto dall'artista arcese in qualità di presidente dell'associazione culturale Sante Leuterie. Un premio fortemente voluto dall'amministrazione comunale per promuovere la cultura letteraria in ciociaria. Domenica saranno premiati i vincitori che per l'occasione hanno presentato opere inedite. È stato deciso, visto che è considerato che molti autori avevano dei curriculum incredibili sia nell'edito, che erano sulla biografia praticamente del libro, sia alcuni hanno allegato proprio dei curriculum davvero eccezionali. La giuria ha deciso di non tenerne conto, cioè è stata valutata l'opera ed è stata la soluzione migliore. Ma Poeti si nasce o si diventa? No, Poeti penso che si diventi, perché io fino a che non mi ero sposato, che ne so, potessi c'ero prima e non lo sapevo, è stata mia moglie, dopo il matrimonio ho cominciato a scrivere poesie. Presente all'inaugurazione della Kermesse, la pittrice e maestro di scultura di fama internazionale Adriana Montalto, che ha esposto le sue opere in municipio. L'artista premerà con una delle sue creazioni in bronzo la migliore poesia del premio Internazionale Città di Arce, edizione 2016. Le opere che sono esposte sono una parte della mia produzione, perché comunque non è una galleria, è appunto il comune, è un ufficio alla fine, e quindi bisogna dislocarle in maniera... Non potevo portare tutta la produzione, oltretutto per pochissimi giorni ho fatto già tanto proprio per ringraziare il comune, perché ho fatto portare tante opere da Roma, le sculture, e le abbiamo dislocate insieme come si poteva in un posto pubblico, insomma non una galleria, e comunque tutti hanno fatto di tutto veramente per aiutarmi. Quell'estasi è la mia passione, e poi mi piacciono tutte, chiaramente, perché le faccio, però io le sento... Vero lì la mia passione, ecco il mio amore.